Il teatro alla Leona di Monte Giorgio è divenuto set del progetto itinerante Le note del dono. Per due giorni nel weekend si sono susseguite performance artistiche, interviste, talk show e appelli con la finalità di sensibilizzare tutti alla donazione del sangue, emoderivati e materiale biologico. A promuovere l'iniziativa è stata l'associazione Fratres che per l'occasione festeggiava proprio il cinquantennale di attività. È un'iniziativa che va sia in direzione dell'allargamento, diciamo così, del tentativo di allargamento di contatto con gli altri e nello stesso tempo il riconoscimento di un traguardo raggiunto dall'associazione che è un traguardo importante. Cinquant'anni sono una tappa importante per il nostro mondo. La donazione è potersi mettere a servizio degli altri con amore e sincerità. Per Montegiorgio, per la Fratres di Montegiorgio è un onore e un piacere concedere questa opportunità a tante persone, a tanti ragazzi giovani. Donate e starete meglio. Lo spettacolo è stato dedicato a Ines Frassinetti, la 14enne di Massignano deceduta lo scorso 29 ottobre all'ospedale Bambin Gesù di Roma. Aspettavo un cuore e un polmone nuovi, ma non sono arrivati in tempo. Affetta dalla sindrome di Wachter, che comporta malformazioni a diversi organi, la ragazza ha trascorso la sua esistenza facendo avanti e indietro per i policlinici. Sono stati 40 gli interventi chirurgici subiti in 14 anni di vita. Ines non ha mai mollato un solo istante. Attendeva il trapianto come una regina attende il suo re. Lo cantava anche in una canzone dedicata proprio alla donazione. Il palco è stato di nuovo inondato di luci e di suoni e questa è una grande gioia per questo paese, avendolo fatto anche con una mission davvero importante che è quella del dono, della donazione. Attraverso la voce degli artisti noi cercheremo di raggiungere tutti i loro fan e tutti quelli che ci ascoltano per promuovere la donazione biologica. È un progetto che nasce per salvaguardare il diritto costituzionale alla salute attraverso la donazione di materiale biologico, il coinvolgimento di artisti nel mondo dello spettacolo e tutto nasce con un'anima, un'anima progettuale che è Ines Frassinetti, marchigiana, venuta a mancare a fine dello scorso mese di ottobre per un organo, anzi due organi che non sono mai arrivati. Questo simbolo del progetto ci ha spinto con tutte le associazioni del dono e dei riceventi e le istituzioni del settore a unire le forze per arrivare ai giovani attraverso i loro beniamini, cantanti e artisti nel mondo dello spettacolo.